Hi everyone, welcome back to my kitchen. Oggi ricetta Pumarola fresca. Hi everyone, I'm Noreen and welcome to my kitchen. In un tegame, meglio se gli hai il tegame e tu mai, bucifare soffriggere l'olio. Un battutino d'aglio d'agliana e una scavoletta di porpa di pomodoro di narneli. Guarda là, un'altra scavoletta di passata di pomodoro liquida, 7-8 cucchiai di porpa di concentrata tripla di pomodoro. Questa che qui è, l'è marrone perché li ha preso in marcio, li ha in marciume. I bachi li ho levati a parte e ci farò le porpette. Tanti di tegame quando li ha presi il bollore è disinfetto ad ogni ossa. Diciamo i bau e more, i bau e more. Poi, come Napoli ci insegna, nella pomodoro Ancop ci ha il segreto delle spezie. Allora, io ci metto il sale, pangratao e peperoncino. Poi, un quintale d'origano. Sanno una sega a Napoli di come si fa a fare la pomodoro? Allora, se c'è qualcuno gli ha dare di qualche cosa, venghi, mi sono il campanello e gli sciogli il rottweiler. Dell'altro origano, perché gli fa buono, gli dà il sapore. E perché no, abbondiamo con il pepe, perché no. Il bruciore è buono di culo e fa anche buono, diciamo, favorisce la fuoriuscita della merda. Si va a rimestangere con questo, diciamo, con questo, con questo coso, con me ne ricordo come si chiama, e si va a, diciamo, a amalgamare, amalgamare lentamente, a cottura lenta. Ecco, se vi posso dare un consiglio, non usate mai i pomodori freschi dell'orto, perché possono essere periolosi, c'è pesticidi, meglio le scavolette del discount. Costa meno e viene più saporita. Se c'è qualcuno, gli ha dare di qualche cosa, io ve lo dico, sono qui. Ti tiro una testa, ti butto giudenti, os. Grazie controlli. Grazie a tutti. Di re,, leрез, sembr substituire le Brac expected. Grazie a tutti. Grazie a tutti.